ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video tutto tech oggi vi presento altri prodotti che secondo me sono da acquistare perché nel video precedente avevo presentato più che altro dei bundle ma per coloro che invece vogliono ampliare la propria gamma di prodotti in casa c'è la possibilità di attingere a queste offerte vi ricordo che il black friday va dal 21 novembre al 2 dicembre quindi non perdiamo tempo andiamo a vedere queste offerte che ho selezionato per voi partiamo con la regina per quanto riguarda la trasformazione di un televisore un po più datato in un televisore smart di ultima generazione stiamo parlando della fire tv stick 4k di amazon viene venduta a un prezzo di 35 euro 99 andiamo poi su ecodot di quinta generazione abbiamo un prodotto che può prenotare può comandare tutta la domotica di casa vostra in più a un buon suono audio perché comunque sono stati messi gli altoparlanti in una posizione tale per cui l'audio risulta davvero gradevole ad un pezzo di 25 euro ecco show 8 di terza generazione 94 99 e avete la possibilità anche di vedere lo streaming tv oltre youtube netflix renderla una cornice smart fare videochiamate usarla anche per video sorvegliare casa vostra ecco spot 54 euro è una praticamente una radio sveglia con un buon suono ma in più anche il display che vi dà un sacco di informazioni sul meteo sulle canzoni che state ascoltando e tanto altro come non andare a toccare uno dei prodotti che ha un prezzo veramente conveniente esteticamente molto accattivante un buon suono anche questo e può essere collocato in qualsiasi angolo di casa a data le dimensioni molto ridotte e la discrezionalità ma se per caso risulta visibile molto bello da vedere sto parlando dell'eco pop ad un prezzo di 19 euro 99 se poi volete anche il vostro assistente vocale in auto perché magari mentre state tornando a casa volete accendere il climatizzatore oppure alzare la temperatura del termostato accendere la luce fare qualsiasi altra cosa tutto questo è possibile farlo grazie ad eco auto ad un prezzo di 34 euro 99 e poi andiamo su un eco show davvero importante con delle funzionalità veramente eccezionali sto parlando di eco show 10 a 199 euro 99 con la possibilità di avere una cassa veramente importante sulla quale ruota lo schermo e quindi nel momento in cui farete delle videochiamate vi continuerà a seguire in modo tale da non perdere mai l'inquadratura questi erano i prodotti che ho selezionato per voi che non sono in bundle e che secondo me sono ottimi da dover acquistare vi ricordo che qui sotto trovate i link in descrizione per poter effettuare gli acquisti io vi metterò un colore che mi capita tra i link che vi metto qui sotto ma avete la possibilità poi di scegliere il colore che più preferite bene ragazzi io spero che anche questo video possa esservi utile vi invogli ad acquistare questi prodotti per poter rendere sempre di più smart la vostra casa io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi